Sabato 1 febbraio, l'Amen Scuola Basket Arezzo ospita il Palace Portestra, la Sibe Prato. La sfida sarà preceduta dal tributo che la società Amaranto intende rendere a Kobe Bryant, stella NBA scomparsa domenica scorsa e che tanto ha legato con l'Italia dove era cresciuto. Per questo motivo la Scuola Basket Arezzo ha invitato tutti i propri sostenitori a raggiungere in anticipo il Palace Portestra, indossando per chi ne fosse in possesso una canotta o una t-shirt di Kobe Bryant. Dal punto di vista sportivo la sfida con il Prato invece rappresenta il classico scontro diretto tra due formazioni appaiate a quota 16 punti in classifica. Nelle ultime stagioni la sfida contro la formazione di Coach Pinelli ha sempre visto l'Amen finire KO anche nella gara di andata al termine di una partita molto emozionante. Il quintetto di Coach Millie fu infatti superato per 106 a 102 dopo un tempo supplementare. Gli elementi per una gara frizzante dunque ci sono tutti, un avversario di qualità e la voglia di rivincita dell'Amen che in queste stagioni non è mai riuscita a battere il Prato. L'inizio gara della terza stagione del girone di ritorno di Serie C Gold è fissato per le 20.45.